Buonasera a tutti, questo è Sam Street, la quarta edizione, questa è la famiglia, il gruppo con la quale ho iniziato ad ascoltare l'hip hop sono loro che hanno fatto nascere la mia passione, sono qui stasera ed è una gioia incredibile vedere tutte queste persone sotto l'acqua ballare con noi, saltare con noi ancora una volta per il quarto anno, è il quarto anno che prendiamo l'acqua, è il quarto anno che tutta questa gente ci segue grazie a tutti, grazie a voi che ci state intervistando, grazie a Sam Street, grazie a questi ragazzi